Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare del Coros Apex Pro. È passato un anno e mezzo da quando l'ho provato la prima volta, se ricordo male l'avevo fatta a marzo la recensione, comunque ve la lascio linkata qua in alto a destra perché andrò a riprendere molte cose che avevo già detto nella recensione. E a distanza di un anno e mezzo vediamo come si è aggiornato, come Coros cura i propri orologi e facciamo, vi spiego un po', facciamo una riprova, ecco dai, ma iniziamo subito col video. Inizio con l'analizzare il primo punto negativo di cui avevo parlato nella recensione, ovvero software. Il software non è cambiato, nel senso ci sono stati degli aggiornamenti, delle migliorie e soprattutto mi riferisco alla fluidità. Questo l'ho già diventato molto, molto più fluido, veramente si passa tra le schermate molto meglio, non ci sono impuntamenti, lo si riesce ad usare con molta soddisfazione, davvero è... da questo punto di vista hanno fatto davvero un bel cambiamento in positivo. E poi, cosa che ormai, vabbè, questo c'è da diversi mesi, è entrata la lingua italiana e l'avevamo già vista questo aspetto anche sul fratello Vertix. Per quanto riguarda il software, poi, sono state aggiunte le mappe. Questa secondo me è la miglioria più importante, anche l'aspetto più importante che andiamo ad analizzare, perché su questo piccolino sono state aggiunte le mappe le stesse che ci sono sul Vertix. E questa è davvero una killer application perché avere su un orologio del genere le mappe gli cambia completamente il posizionamento sul mercato e soprattutto, visto il prezzo di cui poi parliamo, perché attenzione, quello è sceso, che dire, sono davvero una grande miglioria. Le mappe, però, sono molto semplici. Non abbiamo un grande sviluppo sulle mappe, abbiamo proprio un mappa topografica semplice. Forse è ancora più semplice delle cartine, quelle di Compass, che siamo abituati, nel senso che non abbiamo né nome di sentieri, non abbiamo nessun punto in cui magari è indicato se c'è acqua, se c'è un ristoro, non è indicato niente. Però bisogna indicare solo le strade, per intenderci, i sentieri, più che le strade. Quindi, che dire, mappe sì, ma veramente molto semplici e bisogna saperle interpretare alcune volte per capire se andare a destra o sinistra. L'unico piccolo aspetto che ci tengo a sottolineare delle mappe è che si nota comunque che questo orologio non è stato pensato per le mappe. Nel senso che, quando andiamo a zoomare con la rotellina per andare ad ingrandire la mappa, ci sono un 4-5 secondi di buffering in cui l'orologio deve probabilmente processare la mappa e a quel punto ce la fa vedere. Si nota, come dire, che il processore all'interno di questo coros non è stato pensato per supportare le mappe, però al di là di questi 4-5 secondi di buffering, per il resto, si comporta egregiamente. E visto che poi parliamo di mappe, è da aggiungere naturalmente che si possono anche importare e seguire percorsi. Sapete, io utilizzo sempre Komoot, io vado a crearmi il mio tracciato su Komoot. È un po' macchinoso il poter portare all'interno le mappe, perché non abbiamo l'applicazione installata direttamente sull'orologio, quindi dall'applicazione Coros dovremo collegarci a Komoot per scaricare la traccia e a quel punto andare a importarla sull'orologio. Un procedimento un pochino macchinoso, però non è difficile farlo. Parliamo di parte smart. Questa non è cambiata granché. Sono state aggiunte delle piccole feature, nel senso che possiamo andare a controllare una camera Insta, se non ricordo male, però in generale non è cambiata tanto. Non mi aveva soddisfatto molto, già all'epoca, anche sul fratello maggiore. Anche qua mi lascia un pochino insoddisfatto. Il motivo numero uno è che va bene che è uno sport watch, ma dai, almeno la possibilità di poter rispondere con dei messaggi preimpostati. Almeno quello non chiedo tanto. L'unica parte smart che abbiamo su questo orologio è quella di poter visualizzare le notifiche. E basta. Davvero non possiamo fare altro. Poi per il resto, sì, l'orologio è migliorato in tanti piccoli aspetti. Ho notato che il GPS è ancora un pochino più preciso. Ho notato che ci mette meno da acquisire i segnali GPS. Ho notato che è stato migliorato un pochino anche il sensore di battito dietro. Tante piccole feature che rendono questo orologio sempre, sempre più interessante. E qui arriviamo anche al prezzo. Veniva venduto a 499, ora parliamo di 399. Per intenderci costa una quarantina, cinquantina di euro in più rispetto al Garmin 255. Allora, sono due orologi abbastanza diversi rispetto al Garmin, però lui ha la possibilità di avere le mappe, di poter seguire un percorso. Cosa che il 255 non ha. Quindi capite che, come dire, i due orologi iniziano ad essere un pochino più distinti rispetto a quanto era in passato. E soprattutto, a questo punto, io mi sento di consigliare questo orologio a chi fa trekking, trail running, a chi fa sport outdoor e che ha bisogno magari di una mappa. Io vi assicuro che avere una mappa su un orologio così piccolo, su un orologio così leggero, è davvero tanta roba. E soprattutto, per quanto riguarda la batteria, sì, è peggiorata un attimo, ma parliamo di un peggioramento attorno al 3-4% sul totale. Quindi davvero, davvero poco. E io personalmente preferisco sacrificare questo 3-4% e avere la mappa, piuttosto che non averla. Quindi, come vi dicevo, questo orologio, veramente, io lo consiglio tantissimo a chi fa trekking, a chi fa trail running, a chi fa sport outdoor, perché lo sto amando. Mi dispiace doverlo riconsegnare finita questa recensione, però vi assicuro che questo orologio lo terrei al mio polso sempre. Inoltre, ci tengo a precisare che questa volta ho questo cinturino fatto a strap e è davvero super bello, super bello soprattutto nei materiali, ma anche nella chiusura. Perché quando noi andiamo ad indossarlo, avendo lo strap, abbiamo la possibilità di andare a regolare proprio al millimetro quanto vogliamo che questo ci stringa al polso. E vi assicuro che dopo giorni di utilizzo, io ci ho fatto la TGS Extreme, una gara in cui sono stato fuori davvero tante ore. Avere questa possibilità di poterlo regolare a piacimento è davvero tanta tanta roba. Cioè, questo cinturino qua, adesso me ne cercherò uno da comprare e mettere sul mio orologio, perché, veramente, penso sia uno dei cinturi top che io abbia mai provato. Detto ciò, ragazzi, penso che le mie considerazioni le avrete capite, a me questo orologio era piaciuto tanto, adesso ancora di più, visto quanto è cambiato. Che dire, continuo a consigliarvelo se fate attività outdoor e soprattutto adesso che avete le mappe. Detto ciò, io vi ringrazio per aver guardato anche questa riprova non recensione. Nella speranza sia stato esauriente e esaustivo, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!